Il 3x8 non funziona, il 4x8 non funziona, il 5x8 non funziona, 3x10 non funziona anche quello. Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. No, in realtà queste cose non è che non funzionano, ma non ci permettono di ottimizzare. Oggi infatti vedremo un punto di vista essenziale, una prospettiva essenziale per impostare il vostro workout, il vostro allenamento. Perché non conviene spendere troppo tempo su quello che è uno stesso carico, quindi troppe ripetizioni, troppe serie, troppo qualcosa. Sullo stesso carico, ovviamente lo stesso esercizio, stiamo parlando. Premessa, ho già fatto un video sul 3x8 qua su YouTube, quindi vattelo a riprendere perché analizza il problema del 3x8, ovviamente 3x8 è generico, insomma capito, da un'altra prospettiva, quindi vattelo a vedere. E seguimi su Instagram, ludovico.lm, perché là parlo di tanta roba, quindi questa dovuta premessa. Tra parentesi, se ci seguite anche qua su YouTube, su Instagram, dappertutto, ci fate veramente una grande mano, a veramente tanto, quindi a voi non costa niente. Hanno ci dato una mano? Cioè sta, no? Un giusto trade-off. Allora, detto questo, partiamo da un discorso. Nel bodybuilding non si parla di stimolo, ma si parla di stimoli. Perché questo? Stiamo parlando di bodybuilding avanzato, ovviamente, cioè iniziamo a essere un po' più avanzati. Quando vi vado a vedere l'architettura muscolare, quindi quello che c'è nel muscolo, in realtà ci sono tante componenti. Quindi ovviamente c'è la componente più strutturale, miofobilla, sarcoplasma, eccetera, eccetera. Abbiamo poi una componente di glicogeno, di storage, di riserva di glicogeno muscolare. Abbiamo una componente di IMAT, quindi trigliceridi intramuscolari, quindi intramuscular adipose tissue. E abbiamo una componente poi di mitocondri, che sono le nostre centrali energetiche, eccetera. Tutte queste componenti possono variare. E logicamente la loro variazione comporta una risultante estetica, quindi un effetto sul palco, quindi come sto fisicamente sul palco, migliore. Cioè se riesco ad avere un maggiore ipertrofia mitocondriale, più storage di glicogeno, più IMAT, ovviamente più materiale strutturale muscolare, sarò più grosso e più tirato sul palco. Il muscolo avrà un migliore aspetto, una migliore pasta muscolare. Banalmente la cosa che si dice sul glicogeno, che poi vabbè, ma è solo glicogeno, non conta. Ok, però se io un atleta riesco a far rosarie sul palco con un 20-30 millimoli per chilo di massa muscolare in più di glicogeno, è cazzo un atleta che è più grosso sul palco, quindi non conta, forse per te, ma per un giudice che deve giudicare conta. Ovviamente quando consideriamo tutta questa architettura muscolare, dobbiamo considerare che per stimolarla al meglio, dovremo intervenire su tanti stimoli, ovviamente non è che sempre la stessa cosa e solo la stessa cosa stimola tutto quanto. Minimamente però stimoli differenti intervengono su cose differenti. Per esempio il glicogeno muscolare allo storage è influenzato da due fattori, che è l'attivazione dei GLUT4, quindi i recettori, che è data dall'intensità, eccetera, ma anche l'attività della glicogeno sintasi, che a sua volta è influenzata da quanto andiamo a depauperare queste scorte di glicogeno muscolare, un adattamento. Infatti tendiamo ad avere miglior sensibilità insulinica, recettività dei GLUT4 e attività della glicogeno sintasi quando, dopo la gara, quando abbiamo affrontato un periodo di cut, di deplezione, ricarichiamo, ci sentiamo proprio quel pump strappapelle, che difficilmente ne abbiamo esperienza in bulk. Infatti le riserve di glicogeno tendono ad essere maggiori in cut piuttosto che in bulk normalmente e questo è il motivo per cui molti atleti si vedono proprio più grossi, anche se come peso non tanto, però si vedono molto più grossi a livello muscolare alla fine di una fase di cut o qualche settimana dopo la gara piuttosto che in picco di off-season dove sono molto più pesanti, perché in picco di off-season hanno meno scorte di glicogeno muscolare, quindi effettivamente il muscolo non è detto che sia di più, se considero anche questa componente. Avremo di più di componente strutturale, eccetera, eccetera. Però il discorso, il punto del discorso è che abbiamo diversi stimoli. Quali sono questi stimoli? Ora, super super complicato in realtà, ma la facciamo super super semplice, perché quello che ti dico è, gli stimoli differenti puoi identificarli nei rep range differenti. Quindi, un 6-8 RM, 5-8 RM, consideralo uno stimolo, 8-10, 8-12 un altro stimolo, 12-15 un altro stimolo ancora, 15-20 un altro stimolo, 20-25 un altro ancora, 25-30 un altro ancora, e poi la buttiamo sempre più in cacciara. Non vederla come compartimenti stagni, quindi ovviamente ci sono delle sottili differenze, però iniziamo a ragionare sugli stimoli. Perfetto. Mettiamo questo concetto da una parte. Adesso quindi abbiamo diversi stimoli. Ora, quando vai a programmare un workout design, quello che devi cercare di fare è minimizzare la fatica, massimizzare gli stimoli, ok? Come puoi farlo? Cercando di avere un effetto sniper, no? Come i camperoni di Call of Duty. Ossia, vado e colpisco in un solo colpo. Perché questo? Segui questo ragionamento. L'attività di stimolazione è un'attività fondamentalmente segnalatoria, ok? Segnalatoria che cosa vuol dire? Come caposaldo c'è la tensione meccanica. Tensione meccanica che non è che crea casino, che crea danno, eccetera. Quella semplicemente va a segnalare, quindi dà un certo tipo di segnalazione all'organismo, cioè da serie una lettera, ok? Una posta. Ovviamente questo tipo di tensione meccanica ha un costo, cioè quando faccio una serie ha un costo, che è la fatica. Ora, nel momento in cui io riesco a massimizzare questo stimolo singolo, quindi un carico, ad esempio 8-10 RM, ok? Riesco a massimizzarlo. Come faccio a massimizzarlo? Arrivando al cedimento muscolare, quindi massimizzando quello del cedimento, quindi tanto, tanto effort. Cosa vuol dire? Che io sono sicuro che in questo modo io avrò mandato un messaggio, ok? Immagino una lettera di posta, lettera di posta con su scritto Ciao, stasera ci vediamo alle 8. E io te la mando, te la mando a te, ok? Per mandartela che cosa devo fare? Devo pagare. Quindi, stasera alle 8, ci vediamo alle 8, è un'informazione, ok? Io te la spedisco, per spedirti questa informazione dovrò pagare. Il mio pagamento è la fatica, ma immagina che alle poste io pago per mandarti la posta, la lettera, ok? Quindi, ti vado a pagare, perfetto. Ho fatto la mia serie, il messaggio è arrivato, tu hai letto, perfetto. Stasera alle 8. Ora immagina che io ho fatto stasera con questo 8RM, dico, senti, sai che c'è? Mi faccio un'altra serie con questo 8RM. Che cosa vado a fare? Vado a spingere ancora di più, a mandare un'altra lettera, quindi un altro messaggio segnalatorio, e tu lo ricevi, apri, e c'è sempre la stessa informazione. Ciao, stasera ci vediamo alle 8. E tu dici, sì, ho capito, lo sapevo già, ho letto la lettera prima, e io per farlo comunque devo pagare, perché ho fatto un'altra serie, quindi ho pagato due volte per darti la stessa informazione. Immagina che dico, adesso faccio la terza serie con questo carico, non è 3x8, immagina, insomma, capito. Faccio la terza serie, ti arriva un altro messaggio, stasera ci vediamo alle 8, dici, ho capito che ci vediamo alle 8, è sempre lo stesso messaggio, e io ho pagato una terza volta. Capisci che non conviene. Quello che succede è che molto spesso si fanno tre serie da 8, con un 10RM, 12RM, in cui il cedimento è soltanto alla fine, che è un po' più come se io ti mandassi una prima lettera un po' sbiadita, e tu dici, stasera ci viviamo alle, che c'è scritto qua, perché è sbiadito, non tocco proprio il cedimento. La seconda è un po' più così, stasera ci viviamo alle 8, ci viviamo, che vuol dire viviamo? Però ho letto già l'orario, so qualcosa. E la terza arriva, oh, stasera ci vediamo alle 8, adesso ho capito, però ho sempre pagato tre lettere, erano tutte, cioè, l'ultima era fondamentale, che è quella al cedimento, ok? Però ho pagato delle lettere per mandarlo. Guarda, è più semplice, serie, segnalazione, arriva il messaggio all'organismo, mi devo adattare, quindi arriva alle 8. Qual è il discorso? Non è niente al caso. Che io, fino a qua, nella nostra metafora, io ti ho detto che stasera ci vediamo alle 8. Cos'è che stai pensando tu in questo momento? Vediamo se sei sveglio, vediamo se sei intelligente. In questo momento stai pensando, ma dove ci vediamo? Ok, alle 8, ma dove? Da te, da me, a ristorante, dove ci vediamo? È la stessa cosa che succede, cioè, nel senso, ho fatto tre serie con un carico, ho speso per tre lettere, e meno male ho speso quello che potevo spendere, immaginiamo, però non ti ho detto dove. Cioè, ho dato un'informazione parziale, ossia, ho dato uno stimolo, ma ho tanti stimoli che dovrei dare. Quindi, allora, se io ho tre lettere, perché poi ho diversi esercizi, quindi diverse persone a cui mandare tutto, però immagino, se ho tre lettere a mandare, ti dico, stasera alle 8, ok, prima cosa che ti dico, ci vediamo al ristorante tal dei tali, ok, da Pino, il porchettaro, alle 8, da Pino, il porchettaro, porta una bottiglia di vino. Hai tutte le informazioni. Quindi, alle 8, Pino, porchettaro, porta una bottiglia di vino. Provo, porchetta e vino, quindi scegli. Per cui, serie, con un 8-10 RM, poi faccio una serie con un 12-15, e faccio una serie con un 20 RM. Cose così, poi ovviamente si differenzia, in base al distretto, all'esercizio che sto facendo, bla bla bla, però, per darti l'idea, questo vuol dire che c'è stato un profilo stimolatorio più ampio. Poi, ovviamente, questo esempio serve a semplificare il tutto. Come non esiste un Pino, il porchettaro, non so se esiste, però non ci vedremo stasera alle 8, da Pino al porchettaro, con una bottiglia di vino, mi dispiace, ti giuro che una porchetta me la farei volentieri. Allo stesso modo, non è che è così semplice il discorso. Posso utilizzare più serie sullo stesso stimolo, normalmente è meglio nell'avanzato utilizzare dei cluster, ne abbiamo già parlato, no? Per non creare troppa fatica e massimizzare quello stimolo. Però vale la pena spendere un po' per un determinato stimolo che funziona o che vale la pena sottolineare, perché non è che se tocco il cedimento, boh, fatta, finito, non vediamola a compartimenti stanni. In alcuni casi conviene sottolineare un po' di più, soprattutto schemi motori che sento bene, con cui lavoro bene, un determinato carico che sento e percepisco bene, che gestisco bene, quindi questo è un discorso. E poi logicamente se voglio avere un profilo stimolatorio completo ci sono tante altre cose che devo tenere in considerazione. Di nuovo, l'attività e l'aumento del storage di glicogeno non è che basta che faccio una serie da 20 e aumenta lo storage, cioè devo creare un certo tipo di dispendio. Molto spesso si utilizzano proprio dei workout design che si orientano a questi, quindi non è la singola serie che lo fa. È un po' più l'orientamento dell'intero allenamento. una serie da 20 rispetto a una da 8 non è che ti cambia il mondo da questo punto di vista. Però serve a far capire il messaggio di fondo importante. Se devi fare 3 serie, convene che tu, o meglio, se hai a disposizione energie per poter fare 3 serie o 4 serie, convenga che tu le spenda, conviene che tu le spenda, conviene che tu le spenda, ecco, su diversi reprendi. Ok? Ovviamente sempre identificativi dell'esercizio, quindi che senti bene, sempre identificativi, sempre del distretto muscolare. Ok? In quello che è il reprende, abbiamo già parlato dei distretti muscolari. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Ragazzi, io vi ricordo, come al solito, di seguirmi su Instagram, perché pubblico un sacco di cose, lo dico.lem, seguito anche Giorgia, Giorgia.baglio, la nostra pagina rhinonation.co.uk, la pagina Rhinococci, quindi seguiteci dappertutto, perché ogni pagina, ogni profilo, pubblica delle cose differenti. Anche su TikTok pubblichiamo cose differenti, e non perdetevi i nostri shorts qua su YouTube. Quindi seguitici dappertutto, a voi vi costa poco, a noi, veramente da una grande mano. Nel frattempo, qualsiasi commento qua sotto, in descrizione, sarò super liato di rispondere. E noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video.